Qualche mese fa Peugeot ha consegnato una 308 GTI by Peugeot Sport con la livraia dell'arma ai carabinieri. La cerimonia di consegna è stata solamente il primo passo perché oggi ci troviamo a Misano Adriatico per mettere a loro disposizione un corso di formazione, un corso di guida sicura per sfruttare al meglio quella che è la grande potenzialità sportiva di una vettura come è la 308 GTI by Peugeot Sport. Abbiamo voluto coinvolgere il nostro 11 volte campione italiano rally Paolo Andreucci che ha messo a disposizione dell'arma dei carabinieri la sua grandissima esperienza nel mondo delle competizioni. Bella esperienza, interessante. Prima abbiamo fatto una lezione teorica dove abbiamo tramite delle slide gli abbiamo presentato quali sono le traiettorie migliori, il sistema di guida, la posizione di guida, l'impugnatura, la traiettoria, i trasferimenti di carico e poi l'ultimo l'abbiamo portato in pista per tirare anche un po' per fare un po' le traiettorie su una pista importante come Misano. Poi dopo abbiamo fatto un ottimo esercizio, io ero il cattivo, sempre con la 308, e loro che cercavano di venirmi dietro con più macchine per cercare di chiudermi. La 308 è una macchina che va molto forte, ha 270 cavalli, ha una guida molto precisa, una tenuta eccezionale in frenata, per cui era importante fargli vedere la tecnica di guida anche su questa macchina qua. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS